Vediamo come fare copia e incolla su Wordpress senza spasare le formattazioni. Allora, siamo su un nuovo articolo e abbiamo copiato un testo e vogliamo incollarlo per esempio in questo punto qua, tra questo paragrafo e questo. Cosa dobbiamo fare? Allora, possiamo fare una cosa, mettiamo una a capo, ci posizioniamo col mouse in questo punto dove vogliamo fare il nostro incolla, poi andiamo, quando incolliamo, incolliamo sempre come testo puro, andiamo su questo tasto, si apre la finestra, incolla come testo puro e clicchiamo qua, quando il cursore lampeggia, dalla tastiera facciamo CTRL V CTRL V e poi clicchiamo su inserisci. Perfetto, abbiamo incollato il nostro testo dove volevamo e senza che gli venisse applicata una formatazione strana. Proviamo a fare la stessa cosa qua, dove abbiamo un grassetto, vediamo cosa succede, clicchiamo sulla T di testo puro, facciamo sempre CTRL V e facciamo inserisci. La formatazione è rimasta intatta, non ha preso il grassetto della parola precedente, possiamo anche fare, in questo momento, fare qua la capo e vediamo che non abbiamo problemi con le altre righe che sono già state precedentemente inserite.